Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con un nuovo episodio di Minecraft, signori. Allora, prima di partire dal video, io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di fare un salto sul secondo canale, su ogni secondo canale mi trovate come Maullo941bis, quindi il secondo canale in cui portiamo altri gameplay, altri videogiochi, altre cose, altri contenuti. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook, dove vi annuncio quando escono i video, quando siamo in live sia su questa piattaforma che su quella viola. Vi ricordo, vi ringrazio sicuramente per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie e ai canali. E infine guardate un'occhiata ai link in descrizione al video per rimanere sempre aggiornati con i contenuti del canale. Detto questo, signori, oggi cosa andremo a fare? Intanto, prima cosa, cambiamo il visuale prima che vomito. Perfetto, qui un saluto dalle nostre carissime mucche. Signori, oggi andremo a visitare il dungeon che abbiamo trovato l'altro giorno in quella zona di là. Quindi, non perdiamo altro tempo, ci siamo un attimino persi in chiacchiere. Sì, io più o meno già mi sono organizzato tutto, mi sto portando del pane, della carne, un po' di ferro, sticchettini, c'è più o meno tutto. Speriamo di trovare tante cose interessanti e detto questo, signori, partiamo con il video e andiamo in miniera. Ok, signori, siamo arrivati davanti alla nostra miniera che abbiamo trovato l'altro giorno. Qui, no, ho tirato... Ho tirato i blocchi di... Mi servivano... Ma quanto sono scemo, signori. Mi servivano i blocchi di pietra per fare il ponte e li ho tirati. Purtroppo, giocando a raft, signori, mi sto un attimino confondendo con tutti i vari comandi. Perché in raft devo spostarmi i blocchi in una determinata maniera. Qui su Minecraft va fatto tutto al contrario. Allora, vediamo se devo cascare come uno scemo. Vediamo se dovremmo riuscire a cascare come degli scemi. Sulla lava non sarebbe per niente carino. Allora, stiamo calmi. Ora, fermi, torniamo indietro. Evitiamo che ci sia qualche mostro che alle spalle mi faccia saltare male. Allarghiamo un attimino qui il ponticello. Perfetto, ok. Meglio di niente, ok, meglio di niente. Mettiamo intanto una torcia di qua e l'avventura inizia, signori. L'avventura inizia. Allora, stiamo dentro la miniera e si scoprì che la miniera non durava nulla. Era solamente di pochi centimetri. No, non ci credo. Ah, ok. Già, no, mi stavo disperato. Cioè, non vedevo una via d'uscita. Ho detto è finita lì. E già è finita. Va bene, allora. Intanto recuperiamo questo ferro. Che questo ci serve. Molto interessante. Perché ricordiamo che noi abbiamo solo mezza armatura. Non abbiamo un'armatura sana. Ok. Una cassa subito per noi. Bella così. Subito. Subito così. Senza dubbi. Senza dubbi. Senza parole. Di là c'è tantissima roba. Allora, la miniera va in quella direzione. Quindi noi ricordiamoci che dobbiamo tornare qui. Qui. Di qua si va pure da qualche parte. Che c'entra la cassa? Spettacolo, signori. Mela d'oro. Ferra. Rotaglia. Un diamante. Tutte le strade che ci dobbiamo fare. Boh, non si sa. Qualcosa ci inventeremo. Questo qua mettilo subito qui. Anche la mela d'oro mettila qui. E' perfetto. Ok. Calma. Calma. Di qui. Spada in mano. Salve. Buongiorno. Di là si va. In zone oscure. Non che di qua sia meglio. Qui sotto c'è il canyon che vediamo da là. Che poi dovremo anche visitare, signori. Proviamo ad andare di qua. Rotai. E che attualmente non prendo. Prenderò poi. Con calma, signori off camera. Oggi siamo in esplorazione. Oggi siamo in esplorazione. Altra cassa per noi. Bella così. Andiamo alla grande, signori. Aspettate. Fai a me di levare questo ferro di qua. Ok. Qualcuno mi sta inseguendo? No. Là c'è dell'altro ferro. Allora andiamo a prenderci questa cassa. E un ragnetto per noi che tra l'altro spinge anche la cassa. Grande il ragnetto. Ce la stava portando proprio in faccia. E muori. Primo ragno della storia ucciso. No. 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 Lo scheletro è pericoloso. Lo scheletro è pericoloso. Che però se n'è andato. Sulla rete anche lui. Bravo scheletrino. Bravo così. Fatemi mangiare un attimo. Ok. Già siamo un attimino a corto di cuori. Cassa per noi. Ok. Altre rotaie. Altro ferro. Altro pane. Buono. Torce. Che torna sempre utile. Pane, pane, pane. E questo. Ok. Ok. Queste torce le mettiamo qui così. Non. No. Perché sono rincretinito? Dove stanno le torce? Me le ha già messe là. Ok. Va bene. E va bene. Quindi questo. Due casse già trovate così. Subito. Easy. Ottima. Ottima cosa. Allora. Di là si scende. Di là c'è diamanti signori. Diamantozzi per noi. Dobbiamo andare a prendere quei diamanti. Allora. Metti una bella torcia qui. Di qua si va. Per monti e per città. C'è del ferro lì. Io sento strani rumori. Però non capisco dove. Allora. Intanto andiamo avanti. Torce. 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 Ok. Qui è tutto chiuso. Dobbiamo scendere là sotto signori. Ci stanno i diamantozzi per noi. Pipistrelli. E niente. Di qua non ci sta assolutamente nulla. Ok. Qua c'è un buco. Mi senti che ha qualcosa? No. Però sento degli scheletri. Quindi sicuramente qualcosa ci sarà. Qualcosa ci sarà. Io però... Infatti di qua già si passa dall'altro lato. Di qua già si passa dall'altro lato. Io non so se... Ok. Calma. Ok. Di là si scende. Ho sentito un creeper cadere. Eccolo. Mamma mia. Bastardo. Se è un bastardo. Devi rimanertene lì. Allora. Di qua c'è una strada. Mettiamo una torcia. Proviamo intanto ad andare di qua. E qui si apre il mondo. Ok. Questo è l'inizio per perderci signori. Questo è l'inizio per perderci. Sappiatelo. Ok. Abbiamo recuperato un... Un pezzo di corda praticamente. Il ragno non ce l'ha droppato. Quindi ci ha dato una sorta di missione. Recuperiamo anche un po' di legno. Ok. Così recuperiamo tutto il ferro che ci sta lì. E... Va bene. Continuo l'esplorazione signori. Appena trovo qualcosa altro interessante. Ci ricolleghiamo. Perché qui sennò il video già... Mi dura... Tanto già così. Creeper per noi signori. Attenzione. Attenzione che è pericoloso. Attenzione che è pericoloso. Attenzione. E quanto ci sta a morire? E quanto ci sta a morire? Ok. Ok. Sto continuando ad andare in... È enorme. Io mi sono ufficialmente perso. Sappiatelo. Sappiate che mi sono ufficialmente perso. Sto facendo questo piccolo taglio per ragionarvi. Per oltre ad aver ucciso il Creeper. Che mi sono ufficialmente perso. Non so se mai riusciremo a uscire da... Da questa miniera. Però recuperiamo tutto il recuperabile. Altra cassa per noi signori. Altra cassa per noi. Già tre casse. Tanta roba. Tanta roba. Trovate tre casse così in maniera easy. Tanta roba signori. Aspettate che recupero questo ferro. Che come ho detto per ora ci serve come il pane. Perché non abbiamo nemmeno un'armatura. Attenzione cosa c'è qui dentro. Sbam! Una targhetta! Che cosa carina. Allora carbone. Che ci portiamo a casa. Ok. Semi di barbabietola che non servono a nulla. Perfetto. Grande così. Dell'oro. Altre torce. Altre... Dell'oro. Ok. Del carbone. Perfetto. Ok. Le torce. Dove me le ha messe le torce? Perché non vedo le torce? Ok. Me le metti qui. Procediamo in questa direzione signori. Una volta che mettiamo un attimo in sicurezza la zio di là... No! Ma che cos'è? Ma che è? Il ride the creeper. All'attenzione che là dietro ce ne sta un altro. Ma ci stanno pure una cassa. Quante casse stiamo trovando signori? Quindi io ve lo vorrei attrarre verso di me. Ehi zio! Perfetto. Bravo zio. Allontanati da quella cassa che è preziosissima. Dopodiché mori male. Esplodi. Fai quello che vuoi. Non me ne frega nulla. Può esplodere. Esplavissimo. A posto. Si è levato dalle scatole da solo. Rimettiamo la torcia qui. Scendiamo qui. Vediamo prima se la zona è sicura. Dopodiché c'è del ferro lì. Ci sta una fonte d'acqua qui che la andiamo a chiudere. Ok. E poi un'altra torcetta qui. Ok. Zona tranquilla. Zona tranquilla. Vediamo che ci sta nell'altra cassa signori. Mamma mia. E poi recupero questo ferro. Mamma mia. Quattro casse. Quattro casse. Bam! Semi di zucca. Eh. Semi di zucca potrebbero essere più utili. Delle torce. Un'altra targhettina. Buono. Dei binari che comunque continuano. Non servisce a nulla. E va bene. Buono così. No. Le torce ce le deve portare. Scemo. Ok. Ok. Al solito le torce le mettiamo nella mano. Ok. Perfetto. Così. Siamo belli liberi. Recuperiamo questo ferro che avevo lasciato qui. E continuiamo la spedizione. Ricordiamoci che dobbiamo recuperare quei diamanti là sotto. Non mi ne vado se non recupero quei diamanti. Signori. Breve aggiornamento. Abbiamo trovato delle lapislazzoli. Che prendiamo e ci portiamo a casa. Perché possono tornare sempre utili per il tavolo degli incantesimi. Comunque un giorno dovremo farci. Anzi. Potremmo anche pensare di farcelo. Signori. Perché. Abbiamo dei bei diamantozzi. Due è sicuro. Due diamantozzi in più ce li abbiamo. Quindi potremmo anche un attimino valutare di poter costruire il tavolo degli incantesimi. Potrebbe essere una bella. Una bella. Un bel passo avanti della serie. Della serie. Da valutare. Da valutare. Da valutare. Il discorso del tavolo degli incantesimi. Allora. Questo è un po' di rotelle. Le recuperiamo. Signori. Anche se so perfettamente come tornare qua in questa zona. Ok. Calma. Lava che scende dall'alto. E che non mi piace per nulla. Però lo lasciamo stare lì. Allora. Di qua non c'è niente. C'è solo tanta gravel. In cui mettiamo una bella torcetta. Lasciamo lì. La redstone. Sinceramente non mi serve. Signori. E esploriamo questa zona di qua. Che devo anche capire dove siamo. Siamo da tutt'altra parte. Allora. Qui. Non vedo niente di interessante. Vedo solo acqua che scende. Che dà fastidio. Quindi. Chiudiamola. Tanto abbiamo. Abbiamo. Ok. Abbiamo la terra che possiamo sfruttare. E. Di qua possiamo girare. Di qua. Di qua giriamo. Di qua. Ma se io faccio una cosa. Secondo voi. È una cosa bruttissima quella che sto per fare. Lo so. Oh. Perfetto. Ma almeno siamo un attimo in sicurezza. Ma almeno siamo un attimo in sicurezza. Però passiamo sempre di qua. Allora. Là c'è dell'oro. Che potremmo prendere. Qua c'è altra acqua. Altra. Altra. Ok. Sto cercando di capire se per caso di qua. C'è l'inizio della nostra miniera. No. Siamo da tutt'altra parte signori. Siamo completamente da tutt'altra parte. Di qua non c'è la nostra miniera. Anche se qui c'è della terra messa a cacchio. Ma non l'abbiamo messa noi. Abbiamo messa una questa terra così. No. No. Di là non inizia la nostra miniera. Quindi dobbiamo cercare di tornare anche indietro signori. Perché ci siamo persi i diamanti. Devo recuperarmi quei diamanti signori. Siamo un attimino in una zona in cui non... Uh! Un Enderman. Secondo me la dà l'Enderpern. No. Troppo rischioso. Troppo rischioso signori. Non giochiamo con il fuoco. Rischio di morire e di perdere tutto. Un solo blocco di diamante. Tutto questo. Mi ha fatto un ifi qua solamente per un blocco di diamante. Stai dicendo davvero? Solo per un blocco di diamante stupido? Sì. Solamente per un blocco di diamante stupido. Va bene. Signore Enderman. No, 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 no. Il Creeper no però. Porca di quella pagaiata. Mamma mia ci sono vista brutto. No, non dovevi mettere le torce. Dovevi mangiare. E come lo faccio a far mangiare? Ok. No. L'Enderman lo lasciamo lì signori. Anche se effettivamente lo sconto con l'Enderman potrebbe essere molto utile. Aspettate. Aspettate, aspettate. Se mi troppa l'Enderman, signori, secondo me muore prima. Secondo me muore male dal... 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 Dalla lava. No? Però ha preso una botta col Creeper. Quindi questa è che è più debole del solito. Dai, 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 dai. Mi devi dare l'Enderman però, zio. Mi devi dare l'Enderman però. Ed è muore. E porca mi sii. Mi ha dato l'Enderman. Bella così. Bella così. Un'altra Enderman anche per noi, signori. Si avvicina il viaggio del Nether. Si avvicina il viaggio del... Sì, vabbè. Nel Nether. Che cazzo sto dicendo? Per il portale del drago. Iniziamo la collezione delle perle per la ricerca del portale del drago, signori. Ok, va bene. E... Di qua? Di qua risaliamo. No, ma di qua siamo venuti noi. Sì, perché ci sono troppe torci. Allora, aspetto un attimo. Di qua siamo scesi noi. Di là ci siamo andati. Di qua c'è tanta lava che evito molto velocemente. Va bene, vediamo di tornare, di trovare qualche altra zona o eventualmente scendiamo dove stavano i diamanti, signori. Ok, signori. Siamo tornati all'entrata, praticamente all'inizio della miniera, più o meno. Per giù. Andiamo a recuperare quel diamantozzo là sotto. Che vediamo di recuperarlo in maniera molto easy. Ovvero così. Senza problemi. Recuperiamo quel diamantozzo. Dove che torniamo velocemente a casa. E... E va bene così per oggi. Eccoli lì, signori. Li abbiamo trovati, li abbiamo trovati. Siamo arrivati ai nostri bellissimi diamantozzi. Diamantozzi. Che forse ce ne sta solo uno. Attenzione. Verifichiamo. Verifichiamo se ne è solamente uno e soprattutto se... Eh, no, non ci posso dire. Guarda. È sopra la lava. Cioè, è assurda questa cosa. Mettiamo un bel pezzo d'acqua lì. Ok. Allora dovremmo avere il diamantozzo in sicurezza. Secondo un'antica leggenda, sì. Ed è solamente uno. Abbiamo fatto tutta questa fatica solo per un diamante. Ma meglio uno che nessuno, signori. Dai. Diamantozzo recuperato. Recuperalo però. Ok. Controlliamo se per caso non mi hanno trollato e ci sono tutti gli altri nascosti da qualche parte. Niente. No. Tutto qua. Solamente uno, signori. Tutta questa fatica per un solo diamantozzo. Di là non si sa cosa ci sia. Di qua. Eh, niente. Va bene. Allora, signori. Torno velocemente a casa. Eh... Sperando di non morire in qualche maniera. E ci rivediamo quando sono proprio davanti a casa e vediamo un attimino il bottino di questa spedizione. Ok, signori. Sono riuscito a tornare a casa sano e salvo. Non c'è un ragnetto là sotto. Ho qualche scheletro perché sono dovuto tornare a casa di notte. Però tutto bene. È andata bene. È andata bene. Allora, mangiamoci velocemente un pezzo di pane per regolare un attimo la salute. Ok. Preso conto del bottino, signori. Abbiamo trovato delle cordicelle, della bisdazzo. Di due diamantozzi. Una mela d'oro. Ottimo. Una ender pearl. 12 di oro grezzo. 64 di ferro più uno. Ok. Tante rotaie. Delle semi di barbabietola che non ci serviranno a nulla. Dei semi di zucca che possono tornare utili. Eh... Comunque la spedizione non è andata male. Non è andata male, signori. Allora. Detto questo, io per questo video mi fermo qui, signori. Spero che la spedizione vi sia piaciuta. Ovviamente off-camera tornerò in quella miniera per cercare di recuperare altro materiale. E... Perché c'era tantissimo ferro e tantissimo carbone che tornano sempre utili. Detto questo, signori, io vi ringrazio per guardare questo video. Vi ringrazio per il like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. E noi ci vediamo sempre qui sul canale per un altro contenuto. Bella raga. Ciao.